E quel mandato parlamentare era del 2019 e impegnava l'allora Governo Conte a non, non ratificare la modifica del trattato, a non dare l'assenso alla modifica del trattato. Dopodiché ricordo anche una memorabile conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di quelle convocate durante la pandemia a reti unificate per far scoprire agli italiani quali erano i loro diritti e ricordo che il Presidente Conte in quella occasione a chi lo accusava di aver dato l'assenso italiano rispondeva orgoglioso che questo Governo non lavora con il favore delle tenebre, noi guardiamo in faccia gli italiani. Bellissimo, devo dire che fu molto molto efficace e il Presidente Conte in quell'occasione ribadiva di questo tema parleremo con il Parlamento. E allora come sono andate le cose? Chi ha dato l'assenso italiano a una ratifica a livello di Governo che oggi purtroppo impegna anche noi e ci fa fare una figura, ci mette in una condizione difficile perché abbiamo dato un assenso e non stiamo andando avanti? Io ricordo che nel 2019 l'ultimo mandato parlamentare che sulla materia del MES c'è stato, prima di quello ricevuto da questo Governo con questo Parlamento, nella scorsa legislatura ci fu un unico mandato parlamentare.